L'Aquila rimanda ancora all'appuntamento con il primo successo esterno della stagione, impattando 1-1 sul campo del Roma City. La cronaca si apre al terzo, lato l'Aquila, con una rasoiata di russo dal vertice alto dell'area, la sfera sfila di poco oltre l'incrocio dei pali alla sinistra di Pappalardo. Al decimo la risposta del Roma City è affidata al tiro dal limite di Teraschi che chiama Michelin alla parata a terra. La gara si sblocca al ventesimo con il vantaggio dell'Aquila che arriva grazie alla rasoiata di Banegas dal limite con la sfera che si infila nell'angolo basso alla sinistra di Pappalardo. Banegas che al trentasettesimo fa il suggeritore per Belloni il cui tiro da buona posizione viene contrato in angolo da Trasciani. La frazione va in archivio con una buona occasione per il Roma City diagonale di Camilli che non va troppo lontano dal bersaglio grosso. Roma City che dopo l'intervallo torna in campo deciso a spingere sull'acceleratore al settimo minuto beneficia di un calcio di rigore per fallo in aria da parte di Gian Donato. Dalla dischetto si presenta Camilli che con estrema freddezza spiazza Michelin e ristabilisce la parità nel punteggio. L'Aquila accusa il colpo e il Roma City al quarto d'ora va anche vicino alla rete del sorpasso. Con il passare dei minuti però gli uomini di Giovanni Pagliari riprendono campo e al ventiquattresimo un bel taglio da destra vede di santo mancare la correzione a rete per questione di centimetri. Al ventisettesimo poi la punizione di Banegas non impensierisce Pappalardo. Nella finale c'è da segnalare il rosso diretto combinato a Giampaolo da poco in campo. Reo di aver rifilato un colpo a un avversario a palla lontana. È l'ultimo sussulto della gara che termina quindi 1-1. Ora per l'Aquila a poco riposo. Mercoledì si torna infatti in campo per l'infrasettimanale e al Gran Sasso a Concia ci sarà il derby con il notaresco.